Edoardo Tavassi e Micolin Corvaia, matrimonio in arrivo? Tutti i dettagli. Edoardo Tavassi e Micolin Corvaia, intervistati da Radio Cusano Campus, hanno rivelato i loro pensieri riguardo al matrimonio e se fa parte dei loro piani futuri dopo l'esperienza al grande fratello Vip. Quando si parla di matrimonio, Micol ha condiviso un dettaglio interessante sul prossimo matrimonio di sua sorella Clizia con Paolo Ciavarro. Micol ha raccontato Mia sorella si sposerà presto e abbiamo festeggiato insieme il suo addio al nubilato. È stata una giornata da favola, tutto organizzato alla perfezione. Paolo, invece, non ha fatto l'addio al celibato, non è il suo stile. Come testimone, indosserò un abito celeste, una scelta fatta da mia sorella per il suo matrimonio. Noi regaleremo le fedi e potrebbe essere molto dolce se fossero i figli Nina e Gabri a portarle. Sul proprio futuro matrimoniale, Micol ha dichiarato Immagino un futuro con Edoardo, ma non vedo un matrimonio imminente nel nostro orizzonte. Forse in futuro, ma al momento non è una priorità. Micol ha anche espresso interesse a partecipare a Pechino Express con Edoardo. Lo farei senza esitazione, sarebbe un'esperienza fantastica e sono sicura che molti desidererebbero partecipare. Inoltre, durante l'intervista, Micolin Corvaia ha parlato del suo rapporto con Edoardo Tavassi e di come la loro relazione sia cresciuta e maturata dopo il Grande Fratello Vip. La nostra esperienza al Grande Fratello Vip ci ha unito molto. Abbiamo affrontato insieme diverse sfide e abbiamo imparato a conoscerci meglio in situazioni di stress e pressione. Questo ha rafforzato il nostro legame e ci ha fatto capire quanto siamo compatibili. Micol ha poi aggiunto che, nonostante le loro vite siano molto impegnate, riescono a trovare il tempo per stare insieme e coltivare il loro rapporto. Siamo entrambi molto impegnati con i nostri progetti professionali, ma ci assicuriamo sempre di dedicare del tempo l'uno all'altra. Facciamo viaggi insieme, usciamo con gli amici e cerchiamo di vivere ogni momento al massimo. Facciamo viaggi insieme,